Dopo le vacanze e natalizie, i primi trasferimenti dalla Rodari verso le strutture individuate dal Comune per far fronte all'emergenza scaturita dalla chiusura del Plesso Manzoni. Una parte degli allievi seguirà le lezioni presso il centro forteco di via Sant'Erasmo, altri presso le aule realizzate alla Rodari di Piazza Sant'Alfonso, altri ancora invece ma solo qualche settimana dopo potranno frequentare le lezioni nello stabile adiacente all'auditorium in Piazza Sant'Alfonso. Complessivamente dovrebbero essere investiti circa 100.000 euro per adeguare le due strutture, oltre 30.000 invece sono stati già investiti per la realizzazione delle nuove aule alla Rodari. A dettare i tempi in aula il sindaco Salvatore Bottone durante la seduta di consiglio comunale che ha visto protagoniste anche le mamme degli allievi. Abbiamo fatto anche una piccola relazione con i genitori e anche con la dirigente scolastica che avendo avuto subito l'ok qui da parte del consiglio con gli atti di gara, con tutto il compito metrico pronto, noi a rientro dalle feste natalizie il forteco è disponibile e sarà disponibile anche la Rodari. Io mi auguro che le aule della Rodari possano essere disponibili già a breve perché abbiamo mandato la relazione ai vigili del fuoco, abbiamo trovato piena disponibilità da parte del comandante dei vigili del fuoco, quindi aspettiamo una risposta a breve e posso già dare alla collettività, quindi alla dirigente, le sei aule che abbiamo realizzato all'interno della Rodari. Qualche settimane in più per l'auditorium? Per l'auditorium noi ci siamo dati un tempo più lungo perché in quel caso noi dobbiamo realizzare una scala di emergenza esterna, quindi abbiamo dovuto procedere ai vari calcoli e a tutto quello che poi questo comporte. In prospettiva si sta ragionando, le dice, anche per una soluzione che possa dare a questi bambini un'unica scuola per tutti. E abbiamo già dato mandato a un tecnico esterno per il progetto di una nuova scuola nella parte di Traversa Taurana, nell'area comunale di Traversa Taurana e quindi si stimeremo anche quella soluzione. La convocazione di questo Consiglio Comunale è stata dirompente anche in seno al gruppo consigliare del Partito Democratico. Giussi Fiore ha preso una posizione netta nei suoi confronti, non ha condiviso la scelta sua di firmare il documento con la richiesta? No, non l'ho letta e non l'ho sentita, non abbiamo avuto il modo di sentirci e non ho letto questa dichiarazione. Però non vedo perché, credo che sia nelle prerogative dei consiglieri e sia nel dovere dei consiglieri in una vicenda come questa chiedere all'amministrazione di venire in aula, visto che non dà spiegazioni o perlomeno se ne dà, ne dà approssimative una dopo l'altra. C'è credo che il Consiglio Comunale in una vicenda drammatica come questa, dove ci sono state continue ribellioni e chi parla di strumentalizzazione ha poco rispetto del ruolo delle persone e dei consiglieri. C'è la necessità in una vicenda drammatica come questa di andare in Consiglio Comunale e trovare una soluzione univoca. Ma in seno al gruppo consigliare del Partito Democratico di questa vicenda si era parlato nei giorni scorsi? Avete una posizione univoca? Io penso che il PD in quest'Aula ha sempre avuto una posizione univoca, credo che l'abbia anche adesso perché quello per cui ragioniamo è le soluzioni migliori per la collettività, altre aspirazioni, altre ambizioni, altri interessi non abbiamo e credo che il PD non può che essere unitario anche in questa vicenda. Lei ieri aveva già chiarito la sua posizione, non aveva condiviso la scelta del suo collega di partito di sottoscrivere la richiesta di Consiglio Comunale. Oggi i vostri voti non sono stati nella stessa direzione in merito al cambio di destinazione d'uso. Sì, diciamo che forse il mio collega non si era per niente consultato con il partito poiché se il partito che io rappresento in quanto capogruppo ha scelto di non parlare su questa vicenda è proprio perché riteniamo che sia una vicenda molto delicata dove alla base c'è la tutela dei bambini. Io sono una persona che con i bambini ci lavoro tutti i giorni e so che cosa significa fare doppi turni so cosa significa per i bambini delle materne andare a scuola un giorno sì, un giorno no, i disagi che crea ho contatto con bambini che hanno veramente forti disagi perché frequentano comunque centri e quant'altro e quindi so che in questo momento la cosa che era importante e fondamentale era trovare una soluzione che evitasse e mettesse fine, la parola fine, a questi doppi turni. In merito alle divergenze con Grillo, lei in quel comunicato di ieri anticipava che questa vicenda sarà l'attenzione del partito perché politicamente ritiene insomma grave il fatto che lui si sia associato ad una richiesta aggiunta tra l'altro dal centrodestra e da Fratelli d'Italia. No, io ritengo grave che, perché poiché non ho dato colore politico, io ritengo grave che in questo momento ci sia un consigliere che si dichiara del partito democratico e che non si consulti con il proprio partito che abbia quindi tempo per consultarsi con altri partiti ma non con il partito di cui fa parte e di cui io sono capogruppo perché ho avuto modo di, parlando anche col segretario di circolo di capire che neanche con lei si è mai confrontato rispetto a questa vicenda. Ma lei era stata chiesta la firma per quel consiglio comunale? A me non era stata chiesta, assolutamente. Se fosse stata chiesta a me ma come credo a tutti i membri di questo consiglio comunale sicuramente sarebbe stato fatto, anche perché questo era un consiglio comunale che bisognava fare per poter cambiare la destinazione d'uso di questi locali e per poter poi evitare i doppi turni.